Come si fa a diventare il re delle televendite? Mike si arrabbiava molto, lui è il vero re, anzi l'imperatore delle televendite. Lui mi ha insegnato tanto, lui si arrabbiava e diceva non devi più dirlo. Questo qui mi è stato appiopato nel periodo in cui Mike c'era ancora, perché facevamo comunque le televendite, le materassi, anche lui, insomma era un maestro. E quindi una volta mi disse, guarda Mike, l'ha detto un giornalista, lui no, no, non devi più dirlo. Allora questa cosa del re mi è stata appiopata e me la prendo a piene mani. Ormai ci sono dentro da anni. Come hai fatto? Quando c'è stato un periodo che non mi hanno fatto più fare altro, negli anni 90, io facevo delle prime serate, insomma in media si è fatto tanto i primi anni 90. Ma questa cosa ha coinciso con la fine del rapporto con Natalia? Ha coinciso sì con la fine del rapporto. In quel momento c'è stato proprio un cambio, non chiedono più niente. In quel momento le televendite entravano all'interno del gruppo, al di fuori dei programmi, e quindi mi chiesero, ma ti va? Sì, era un modo per rimanere ancorato ancora a questo lavoro. Se l'hai mai vissuta come una diminuzio? In quel momento sì, perché allora, adesso chiaramente non la lascerai per nulla al mondo. E' quello che mi ha consentito di stare bene, anche economicamente, di vivere bene, di essere soddisfatto. Quindi è un punto importante nella mia vita. Però c'è stato un momento negli anni 90 che è stato proprio un... no? Se ne andava un certo tipo di mondo e si è affacciato questo mondo della telepromozione e televendita. E così è stato. Però col senno di poi ho fatto bene. Perché molti dicevano no allora, perché sembrava come la televenetra, le telepromozioni. Grazie.